A Lecco la neve non è ancora arrivata, in previsione però di una perturbazione più massiccia annunciata nelle prossime ore l'assessore alla viabilità Corrado Valsecchi invita i residenti in città e a tutti coloro che per ragioni di studio o di lavoro raggiungono quotidianamente il capoluogo ad adottare una serie di comportamenti per evitare ulteriori disagi. Chiedo a tutti i cittadini e l'appello di Valsecchi di utilizzare la loro auto solo se indispensabile e con le dotazioni previste dalla legge e dalle ordinanze. Qualora dovessero verificarsi le precipitazioni nevose annunciate si rammenta che tutti i veicoli sprovvisti di pneumatici o catene da neve non possono assolutamente circolare. Il mio invito dunque è quello di utilizzare per i prossimi giorni i treni e pullman laddove i mezzi pubblici possano soddisfare gli spostamenti verso il posto di lavoro e le scuole. Oltre a una maggiore attenzione agli spostamenti Valsecchi invita i lecchese a collaborare nella pulizia di camminamenti e marciapiedi. Ricordo a questo proposito, prosegue l'assessore, che i proprietari di immobili durante e in seguito alle nevicate sono tenuti a rimuovere la neve e a tenere sgombero al marciapiede. La neve rimossa non dovrà invadere la carreggiata e ostruire gli scarichi e i pozzetti stradali. Auspico quindi la massima collaborazione di tutti i residenti a Lecco o di quelli che intendono recarsi nella nostra città, conclude l'assessore. A rispettare queste semplici norme e suggerimenti finalizzati alla salvaguardia della propria e altrui incolumità.